Raga, posso ufficialmente dirvelo, anche se non è uscito il comunicato, ma se ne parla, se ne è parlato, e per chi mi segue sul canale Telegram, sul server Telegram, comunque i link li trovate qui sotto in descrizione, entrateci perché si parla di calcio e non fate tanto, vi do le mie anticipazioni. In primis, iscrivetevi al canale, perché così non devo montare. Iscrivetevi, mi piace, iscrivetevi e commentate, dicendomi cosa ne pensate. E' ufficiale, e devo ringraziare, anche se si sapeva da giorni che sarebbe stato ufficiale, Gennaro Tutino, il napoletano, arriva alla corte di Mr. Corini a Palermo, sarà la nostra seconda punta. Adesso vi parlo di lui. Ringrazio il mio capo Treno Nunzio, perché mi ha dato questo spoiler. Tutino, in questo momento, si trova nella tratta tra Reggio Emilia e Roma in treno per andare a fare le visite mediche, che al 99% farà domattina. Si spera che arrivino presto anche le visite mediche di un altro giocatore che stiamo aspettando, ma di quello ne parleremo in un prossimo video. Chi è? Gennaro Tutino. Chi è che non lo conosce? Cioè, per chi segue questa categoria, siamo in Serie B. Gennaro Tutino è un giocatore che l'ha fatta diverse volte e l'ha fatta anche bene. E' cresciuto nel settore giovanile del Napoli, dove se non erro fu anche capitano. E' nel pieno della sua maturità calcistica, perché non è né un giovanissimo e né vecchio. Però l'ultima sua avventura non è andata come si aspettava. Il Parma lo acquistò a titolo definitivo dal Napoli per 5 milioni e mezzo. poco tempo fa. A Roma, a Nassar, a Parma però, ha sempre giocato praticamente ala. Pochissime volte nel suo ruolo, che è quello di punta e mezza punta, quindi seconda punta. Ruolo che nella nostra squadra serve, manca. Perché se non segna Matteo, deve segnare Marconi o Valente o Segre, perché altrimenti i gol noi ce li scordiamo. Quindi si aggiunge alla nostra squadra un giocatore di assoluto livello per questa categoria. E' vero che molti diranno, eh sì ma fa schifo perché a Parma giocava ala. Non è il suo ruolo, è normale che non si vede tanto in zona gol. Un giocatore che deve stare vicino alla porta o comunque con un attaccante vicino e giocare lì per attaccare, per segnare. E gli auguro, veramente, voglio l'hashtag qui sotto, benvenuto Gennaro o Gennariello. L'ultimo Gennaro che abbiamo avuto in squadra, mi ha lasciato ben ricordi. E sto parlando di Gennaro Troianiello. Quindi speriamo che anche Tutino si faccia rispettare. Parleremo tra poco della formula. Le stagioni in cui Tutino ha fatto veramente bene sono principalmente 2-3. Si parla di Cosenza, non tantissimi anni fa, 2019, dove Cosenza fece molto bene. Prima giocò in C, se non sbaglio, col Cosenza e lo aiutò a salire in Serie B. E poi fu mandato in prestito in B al Carpi, ma è successo un bordello e ritornò immediatamente. Di nuovo a Cosenza, dopo il primo anno ufficiale da titolare comunque, in Serie B va in doppia cifra, segna 10 gol. Poi dopo, l'ho letto e adesso non mi ricordo, l'altra esperienza veramente importante è quella che sicuramente si ricorderà più lui. E sono tutte piazze del sud, è quella la cosa che mi fa impazzire. E che Tutino a Salerno, con la Salernitana, ha fatto tutto. Segnato 13 gol, li ha portati praticamente in Serie A insieme agli altri. Ovviamente non ha fatto tutto da solo, però è un gran merito, è anche suo. Quindi sia a Salerno che a Cosenza in primis sono certo che se ci sarà qualche tifoso della Salernitana o del Cosenza che guarderà questo video mi potrà dire che Tutino li ha fatti divertire. È un giocatore non una grandissima stazza fisica, è brevilineo, molto tecnico, ha un bel tiro. È quello che gli possiamo augurare che a Palermo si consacri. Parliamo della formula, ricordiamoci, vi ricordo di nuovo che il Parma lo acquistò per 5 luni e mezzo poco tempo fa. Noi lo prendiamo in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni, diritto che diventa obbligo qualora il Palermo dovesse salire in Serie A questa cosa. Non succederà mai, lo sappiamo, però ragazzi se il Palermo e Tutino combaciano, si sposano alla grande e Tutino fa 6 mesi in cui dimostra di valere questi 3 milioni, dimostra di voler stare in questa piazza, in questa squadra, con questa maglia, dimostra amore per questa maglia immediato, inizia a lottare che non servono soltanto i gol, ma comunque dimostra il suo valore. Tutino il prossimo anno sarà un valore aggiunto di questa squadra, io mi auguro che lo sia già da adesso. Parleremo in un prossimo video della formazione che potrebbe nascere dentro fine mercato, perché con l'arrivo di Tutino gli spazi, secondo me, andranno a ridursi di davanti. Per Vido, che io vorrei sapere cosa sia successo a Vido, perché non lo ricordo anni fa con il Cittadella, era molto forte. Palermo non ha dimostrato nulla, non stoppa un pallone, non so per quale motivo, mi dispiace per lui. Edo, non so se rimarrà, parlo di Solene, non so se andrà via in presto, io mi auguro che rimanga, anche se so che un presto gli farebbe molto bene per continuità e anche per magari crescere. Quindi voglio capire adesso anche la fine che farà di Mariano, ma ne parleremo. Gennaro Tutino è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. Quindi facciamo gli auguri di benvenuto a lui, sono veramente molto molto contento per me, per la categoria è un grandissimo colpo. Io vorrei ricordarvi a tutti che fino a marzo scorso eravamo in Serie C ed eravamo convinti che anche quell'anno sarebbe andato nella merda. Invece i miracoli esistono, la Santuzza ci ha aiutato, Baldini, Nardini e Compagnia Bella ci hanno aiutati, ma solo Brunori. Floriano e il pubblico del Barbera ha spinto il Palermo a salire in Serie A, in Serie B, perdonati, chiedo bene io, in Serie B e adesso siamo qui. A gennaio portarsi a casa un giocatore di tale livello, in un mercato difficile, perché sa che il mercato di riparazione è un mercato molto molto difficile, a me fa solo che mesperare. E chissà se non ha fatto tutto da solo Rinaldo o no, lo ha aiutato anche Vigone, ma di lui ne parleremo molto molto presto. Comunque ragazzi, sono molto contento, ditemi cosa ne pensate. Per me un acquisto del genere è un acquisto importante, ricordiamoci che il nostro obiettivo è soltanto uno, uno è soltanto. Salviamoci il prima possibile e stiamo tranquilli, perché il futuro sarà rosa, mettetevelo in testa, che il futuro del Palermo sarà sempre più rosa. Benvenuto Gennariello, Gennarie, Gennaro Tutino, un bacione a tutti, sempre Forza Palermo, e ci vediamo molto presto con un prossimo video. Vi commenti qui sotto, ditemi cosa ne pensate.